Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Antonella Clerici sempre più protagonista nella mattinata italiana. Il suo programma è sempre mezzogiorno e ormai punto di riferimento. Motivo? Gentilezze e spontaneità come quando in studio era tornata Anna Moroni di cui era stata collega alla prova del cuoco su Rai 1. Quest'ultima aveva insegnato con pazienza le regole base della sua cucina alla conduttrice e fin dal primo momento sono diventate grandi amiche. Poi nel 2018 aveva deciso di lasciare il programma a seguito dell'addio della padrona di casa, poi sostituita da Elisa Isoardi. Da quel momento in poi Anna Moroni è apparsa rare volte in TV ma aveva voluto fare una sorpresa in diretta e sempre mezzogiorno. Sorpresa che Antonella ha avuto anche oggi durante il gioco del bonsai. Un gioco che consiste nell'indovinare il numero di foglie sul bonsai accanto ad Antonella Clerici ed il premio in palio. Di questi tempi, non è affatto male. Un bel gruzzoletto in buoni spesa da spendere al supermercato. Cosa è successo? Dopo la classica chiamata da casa per partecipare al gioco dall'altro capo del telefono la concorrente ha iniziato a parlare, probabilmente ignara di essere in onda. Si è rivolta verso qualcuno accanto lei e con fare di protesta ha detto «Hanno detto che ero la prima de' questo e invece mo' hanno passato un'altra. Queste sol raccomandate!» Alludendo che ci fosse un trucco dietro il gioco volto a favorire qualcuno. Parole che non sono passate di certo passata inosservata a casa, ma neanche ad Antonella Clerici che, con espressione confusa e divertita, ha ripetuto più volte. «Pronto?» Eh, e solo in quel momento la concorrente si è resa conto di essere in onda e al telefono, in diretta. Tra un po' di confusione e l'imbarazzo della concorrente, Antonella Clerici ha subito cercato di smorzare la tensione dicendo «Ciao, sentivo che parlavi non so di che cosa. Non pensavi di parlare con me, parlavi anche con il centralino, quindi magari pensavi di giocare». La concorrente ha immediatamente riposto «No, no, no, salve sono Maria», con palese imbarazzo.